in questo video continuiamo i test relativi alle notifiche push gestite da openhab tramite l'implementazione delle rules completiamo quindi quanto fatto nella prima parte andando a migliorare il sistema di invio notifiche rendendolo un pochino più intelligente riprendiamo quindi dalla rule che avevamo scritto nel video precedente dove ogni volta che il nostro sensore di gas inviava un valore e questo valore era maggiore di 50 quindi una certa soglia veniva mandata una notifica di tipo broadcast il problema di questo approccio è che se il nostro sensore di gas rimane sopra la soglia per un certo periodo di tempo cosa che può succedere vengono inviate le notifiche tutte le volte che il valore cambia per avviare a questo problema possiamo fare due abbiamo due soluzioni una è far sì che la notifica venga inviata la prima volta che il nostro sensore passa dal sottosoglia al soprasoglia poi finché rimane sopra soglia non viene inviato più nulla finché il sensore non torna sotto la soglia e ritorna sopra la soglia in questo modo sicuramente si diminuiscono di molto le notifiche che vengono inviate un altro approccio può essere quello di far inviare la notifica quando il sensore supera la soglia la prima volta e poi finché l'utente non preme su un pulsante per notificare che ha letto la notifica il nostro sistema non manda più notifiche indipendentemente dal fatto che il sensore sia sopra la soglia o sia tornato sotto e nuovamente sopra quindi iniziamo a implementare la prima soluzione per fare questo dobbiamo aggiungere un item lo chiamiamo allarme gas tipo lo mettiamo ad esempio switch categoria lasciamo pure per dove mettiamo alarm giusto per dare un'icona e creiamo il nostro item adesso torniamo sulla rule la nostra rule la dobbiamo modificare aggiungendo la gestione di questo item quindi adesso cosa facciamo quando il nostro sensore raggiunge la soglia dei 50 e il nostro item appena creato quindi aggiungiamo una condizione è in stato off l'evento che dobbiamo scatenare non è più l'invio della notifica ma il passaggio del nostro item quindi inviamo un comando al nostro item eccolo qua gli inviamo on in questo modo cosa succede quando il nostro sensore raggiunge i 50 il valore di 50 e il nostro item allarme gas è off noi lo facciamo diventare on e non facciamo nient'altro poi dobbiamo aggiungere un'altra regola quindi questa la salviamo e ne aggiungiamo un'altra e la chiamiamo allarme gas off quindi il trigger si basa sempre sul nostro sensore quando cambia poi il valore è la nostra soglia quindi sempre il nostro item che ha un valore minore della soglia di 50 che cosa dobbiamo fare in questo caso prendiamo il nostro item allarme gas e lo posizioniamo su off in questo modo cosa succede quando il nostro sensore torna sotto la soglia questo item va off e mi permette di attivare l'evento quando il sensore va sopra la soglia in questo caso non abbiamo ancora inviato nessuna notifica perché la prima rule che magari posso chiamare allarme gas on salviamo cosa fa non fa nient'altro che switchare il nostro item allarme gas off ovviamente se off lo switcha su on la rules allarme gas off fa la cosa inversa per inviare la nostra notifica noi aggiungiamo una nuova regola che si basa questa volta sul sensore allarme gas cioè non è un sensore scusate sul nostro item virtuale allarme gas beh possiamo dire quando riceve un comando quando riceve il comando on cosa deve succedere mandiamo la notifica allarme gas new la chiamiamo magari quindi la notifica scusate allarme gas notifica quindi fondamentalmente la notifica viene inviata semplicemente quando il nostro item allarme gas passa nello stato on quando passa nello stato on il nostro item allarme gas quando la regola allarme gas on viene eseguita e cioè quando il nostro sensore di gas ha un valore superiore a 50 e l'item allarme gas è off a questo punto non ci rimane altro che fare la prova la facciamo come al solito con lo smartphone intanto mi sono predisposto una sitemap in cui vediamo il valore del sensore è il valore del nostro switch che al momento è off quindi andiamo su sull'api explorer per aggiornare i valori del sensore ok allora li inviamo adesso 55 e inviamo dovrebbe arrivare la notifica e infatti sullo smartphone è arrivata sulla mia sitemap abbiamo il valore aggiornato e vedete lo switch di allarme gas è su on a questo punto invio un altro valore sopra soglia quindi 60 anzi prima tolgo la notifica adesso invio 60 vedete sullo smartphone non arriva nulla sulla sitemap abbiamo il valore aggiornato il nostro item è ancora su on adesso do un valore sotto soglia quindi 40 eseguo ovviamente sul smartphone non arriva nulla la sitemap al valore 40 e lo switch è andato su off a questo punto un successivo valore sopra soglia mi farà scatenare di nuovo la notifica quindi mandiamo 56 ecco sullo smartphone ve lo faccio vedere è arrivata la tolgo e sulla sitemap abbiamo lo switch su on e il valore aggiornato quindi in questo modo possiamo ridurre di molto le notifiche che ci arrivano sul sul dispositivo a fronte di uno stesso evento facciamo in modo adesso che quindi il caso 2 che dicevo prima sia l'utente a voler chiedere di ricevere un ulteriore notifica quando di nuovo il valore del del sensore sopra soglia quindi andiamo a modificare le nostre rule quindi l'unica cosa che devo fare è togliere la rule di allarme gas off quindi questa la possiamo disabilitare e il resto lasciamo tutto così in questa situazione abbiamo il nostro valore ultimo che è già un sopra soglia quindi nella situazione corrente se torniamo sull'API anche inviando dei valori sopra soglia non dovremo ricevere la notifica quindi mando 60 non ricevo nessuna notifica adesso torno sotto soglia con 40 vedete lo switch è ancora attivo quindi se adesso torno sopra soglia ovviamente non mi viene mandata la notifica ma il valore si aggiorna quindi cosa succede deve essere l'utente a dirmi ok ho controllato il gas l'ho messo a posto e quindi clicca sull'item sullo switch che gli abbiamo messo diciamo sulla sul suo pannello a questo punto qualunque valore sopra soglia che arrivi da questo momento in poi mi fa scatenare la notifica eccola qua in questo modo abbiamo fatto un sistema un pochino più intelligente che invia la notifica al primo cambio di soglia e poi non la invia più finché o non torna sotto soglia e poi di nuovo sopra soglia caso 1 oppure sia l'utente che decida direttamente di dire ok voglio ricevere le notifiche da questo momento in poi ciao